Ciao, sono Emanuele, un pescatore qua di Genova, ho la barca qua in Darsena. Io faccio un tipo di pesca che fa parte della piccola pesca, cioè si utilizzano reti da posta o nasse. Fatti direttamente da noi, sia le nasse che le reti, sono armate con le nostre mani. E a seconda della stagionalità e del momento si possono trovare diverse specie di pesce nel nostro mare. Come ad esempio alletterati, che è un pesce non tanto conosciuto, un pesce povero tra virgolette. Tra l'altro buono, molto buono, insieme alla paramita che è buonissima. E si possono trovare anche a basso costo, quindi non vanno a influenzare sulle finanze della famiglia. Volendo si possono mangiare anche due o tre volte alla settimana e sono molto molto buoni. Poi, a seconda, come dicevo prima, della stagionalità, si possono trovare altri pesci, come capponi, come pesci prete, che anche quelli non sono tanto conosciuti. E si trovano a buon prezzo anche quelli. Comunque, tutti questi tipi di pesci si possono trovare al mercato del pesce, dove noi pescatori siamo presenti alla Darsena come prima vendita. È un punto di sbarco dove noi, dopo la giornata o la nottata di battuta di pesca, ci ritroviamo lì al mercato, apriamo il mercato e vendiamo il nostro pescato. Dando assistenza a 360 gradi alla clientela, facendo conoscere il tipo di pesce, come viene pescato, eventuali ricette, far conoscere proprio a 360 gradi il pesce nostro pescato.